Sai, ho imparato che le cose vanno sempre per il meglio. Non importa quanto triste si possa essere, o soli, si potrà sempre stare meglio. Prendete me, per esempio. Non avevo amici, ero sola. Ma un giorno, qualcuno è avviato e mi ha mostrato che le mie differenze erano anche io, che mi rendono speciale. E questo è fantastico. Sì, sono un po' stanco anche oggi. Ok, bene. Dovremmo essere pronti per il pranzo? Penso che avviere un burrito. Una di dimensione normale, burrito. Anch'io. Grande burritos mi si levantano. Che cosa è stato per un anno? È vero. Sono qui da un anno. Ma ogni giorno imballo alcuni nuovi ingredienti e mi riavolgo. Non è come se fossi un burrito vecchio di anni. Questo non è McDonald's. Io sono carne fresca. Ma tutti i giorni io sono rifiutato dallo studente con un fame media. Dopo una lunga giornata passata ad essere guardato, ho deciso che era il momento di agire. Ok. 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 Grazie. Ciao, sono Dario. Posso aiutarti? Ma io sono troppo grande e troppo rotto. No, tu sei perfetto. Perfetto! Io so esattamente cosa fare con te. Io sono fragile. Non posso essere respinto di nuovo. Dario. Sì. 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 No, no, no! Sì. 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 Sì.